E ammontano a 14 milioni di euro le risorse destinate alla Toscana con il bando ISI 2020. Così INAIL sostiene le aziende che investono in prevenzione e sicurezza sul lavoro. I contributi a fondo perduto possono coprire fino al 65% delle spese sostenute per il miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza dei lavoratori. La presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica. Aggiornamenti saranno pubblicati nei rispettivi siti entro il 26 febbraio 2021.